cari amici col vento con tutto tentiamo la scalata attenzione per chi non è agevolato guardate che roba immaginate di fare la scalata assieme a me una cosa c'è dell'incredibile qua volendo c'è il terrazzino ci si ferma ma a me sinceramente di fermarsi a metà strada non è mai piaciuto tanto vale che continuiamo perché fermarsi a metà strada dai dubbi ed eccoci incredibile vento vento però ci siamo incredibile cari amici abbiamo fatto questo selfie ok bellissimo perché faccio così e guardatela cosa ho visto cosa ho trovato se mi cade di sotto buonanotte telefonino accontentatevi di questo una scia naturale stranissima come se nibiru ci vedesse da lì bellissimo come se avessimo avuto un segno ragazzi ciao poi scarico intanto c'è il telefonino ciao un selfie da gennaio germini e nibiru eh vedi che mi cade e quando mai stop a